Buongiorno a tutti, quindi se volete seguire il tutorial continuate pure, quindi se volete vedere come si fa seguite il tutorial perché era da tanto che volevo fare questo video, vediamo se saranno approvati o avvocati se saranno approvati o bocciati, per me, per me, per me, per me, qua, oh cavolo è caduto, si vede come esce, ecco esce acqua non so se, e sinceramente proprio non mi va, oh sta colando tutto, sta colando, ecco non, pacca a buchi, pacca a buchi, pacca a buchi ma puoi camminare, ma quello fa retromarcia perché delle riprese le ho fatte io, eh si, oggi sti mutando ho visto la mattina, la colazione, nel latte, nella lisana, nel caffè come dico sempre, tutto è bene, quel che finisce bene ciao ciao, alla prossima ciao 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 ciao